Per la sottoscritta Yu-Gi-Oh! è sempre stata una pausa ineludibile tra una sigla fantasmagorica di Giorgio Vanni che avrei sentito a ripetizione e un altro anime che adesso non riesco a identificare che volevo vedere ma rincasavo prima, pranzavo prima e quindi mi è toccato vedere una serie di puntate di Yu-Gi-Oh! Questa serie animata riguardante un gioco di carte di cui ai tempi non potevo soffrire il character design che trovavo disegnato con l'uniposca troppo marcato e grottesco, un chara design che ancora oggi fa sembrare fine ed elegante ed essenziale quello di cose tipo l'attacco dei giganti. Detto questo e riconoscendogli che dopo vent'anni quel chara design è una delle forze di Yu-Gi-Oh! che gli ha dato un carattere unico, egocentrico ma immediatamente riconoscibile, devo constatare con un grande sconcerto e con un pizzico di amare e ironia del destino che è stata proprio quella serie di pause ineludibili a donarmi, volente o soprattutto nolente, quella conoscenza pregressa che mi ha permesso di andare a vedere la proiezione stampa di Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions non solo come spettatrice che ce capisce e non ce capisce, ma proprio come persona che non solo comprende quello che succede, non solo ne capisce la valenza ma incredibilmente l'apprezza e si diverte. Eh sì, Yu-Gi-Oh! è il lato oscuro delle dimensioni, film evento che uscirà con Nexo Digital il 10, 11 e 12 marzo è il film che nel 2016 ha celebrato il ventennale del manga da cui ha preso origine questo media franchise che è una parola per dire che i giapponesi quando tentano di venderti l'anima lo fanno molto meglio di epigone statunitense e quindi, come per esempio Ghost in the Shell, spalmano un prodotto di successo, una narrazione di successo tutti i media possibili. In questo caso nasce da un manga che creerà 4 serie distinte poi avrà 6 stagioni di serie animata e ben 4 film. Questo film però è diverso dal classico film manuale alla One Piece, alla Detective Conan, all'Evangelion. Questo film è una sorta di appunto celebrazione della saga e per l'occasione vengono riportati su grande schermo tutti i personaggi protagonisti della prima storica serie tv e di tutto quello che crea queste incredibili operazioni di nostalgia ambientate in realtà 6 mesi dopo la fine, se non ho capito male dell'anime e quindi ritroviamo il sempre insopportabilmente Moshu, Yugi Mutu e tutta la compagnia cantante pronta al diploma. Viene introdotto poi il classico villa impacchiano, inutile e di origine ingiliziana nel caso di Yu-Gi-Oh! per di fondo dare adito di nuovo una serie di situazioni di emergenza in cui ne va della vita dell'umanità, del destino dell'universo in cui l'unica risposta dei buoni e dei cattivi è due diamo. Non è assolutamente dedicato a un pubblico che voglia entrare nel franchise o che cominci oggi a giocare alle carte di Yu-Gi-Oh! postrissandoci l'occhio, no! È evidente che il pubblico principale di questa operazione sono i nostalgici, quelli che sono cresciuti con Yu-Gi-Oh! che si sono appassionati di Yu-Gi-Oh! quelli che se lo sono sorbiti in attesa di un anime che non si ricordano più quali fosse e che sono disposti nel 2016-2017 ad andare a ritrovare quegli eroi al cinema. Per questo motivo ho deciso che la recensione è utile, col tono serio, piena di infodampic tipo che il doppiaggio italiano è ottimo, che è ottima anche l'animazione che non c'è assolutamente paragone con quella dell'anime e che bisogna ammettere che a 20 anni il chara design effettivamente era stato geniale perché di fondo ha costruito l'identità enorme e fortissima di un manga che in realtà ha saputo anche nel suo tono trovare qualcosa che l'ha reso unico rispetto a tutti gli altri. Ecco, per tutti questi motivi ho deciso che la recensione serie finisce qua perché, vi ho detto, è un film incredibilmente divertente e avvicente ma dedicato a chi abbia le conoscenze pregresse se necessarie proprio per capirlo e apprezzare l'operazione di nostalgia. E quindi mi rivolgo a voi, voi che avete la conoscenza pregresse di Duel Monster e che avete lottato fra misteriose realtà, se Yu-Gi-Oh! you're gonna play the game, play the game! Per dirvi più nel dettaglio perché questo film veramente io me lo sono coduta da morire e dire che era andata in proiezione stampa proprio con lo spirito sacrificio di Isacco che sale adattare con il padre. E invece gli sceneggiatori hanno trattenuto la mano di Abramo e ci hanno donato un film evidentemente scritto per i fan dell'epoca ma è che è fantastico. Devo riconoscere Yu-Gi-Oh! che pur essendo insopportabile ha saputo portare avanti delle caratteristiche che hanno reso la visione di questo film eccellente come ci insegnava Giorgiovanni che aveva colto appieno lo spirito del cartone You're bound to play, just find a way to achieve the fame Yu-Gi-Oh! non è mai stato quel cartone da volemose bene, ci sfidiamo ma con grande spirito sportivo col cazzo! In Yu-Gi-Oh! il punto era vincere e quando perdevano si incazzavano da morire alla fine quando guardi il film ti chiedi ma perché si sono sbattuti ad animarlo così bene e a persino scriverci una storia e pensarsi dei duelli quando l'ego di Seito Kaiba è sempre stato talmente abnorme è sempre stato così arrogante senza alcun motivo che avrebbe potuto da solo riempire un intero film e vi giuro pur avendo visto gran parte delle sparate atomiche di arroganza inarrivabile di Seito Kaiba nella serie originale in questo film riesce a superare se stesso però bisogna dire che il formato lungometraggio giova moltissimo a Yu-Gi-Oh! perché il punto e il problema dell'anima era che le sfide duravano tantissimo ci voleva 15 ore di monologo interiore prima di decidere quale cartetappola piazzare e poi, quello però lo pezzavo sempre, quei due minuti di insulto tra un contendente e l'altro quando cambiava il turno uno svelava una cartetappola invece nel film ovviamente essendo un minutaggio molto più ridotto il tutto è molto più fluido e veniamo ai duelli che sono costruiti come il resto del film proprio per emozionarti cioè tu sai già che quell'idiota di Yu-Gi-Muto cioè uno dei personaggi più ameba inutili della storia degli anime non fa l'altro che chiamare cosa? è come Expelliarmus per Harry Potter il mago nero! ed eccolo lì e lui arriva per una volta animato bene sto mago nero e tu già ti emozioni io però quando Seto Kaiba nei suoi deck che comprendono come si sa solo draghi sempre più sboronici che la cui dimensione e la forza aumenta con l'ego di Seto Kaiba quando ha tirato fuori il primo trago bianco occhi blu veramente mi sono emozionata il convidato di pietra di questo film è quel figo del faraone Ate perché il punto è che di fondo il motore degli eventi come in questo film e nella serie originale è che tutti sono innamorati di Ate dal trono come fai a non essere preda di sentimenti di natura sessuale per uno che innanzitutto era tipo una semidivinità e già ai tempi era un mega campione di Duel Monster in un mondo in cui vi ricordo qualsiasi contesa diplomatica di natura esistenziale, sociologica o politica viene affrontata e risolta con un duello di Duel Monster poi è un faraone che gira vestito come un truzzo e la cui anima è inserita nel puzzle a forma di piramidi più truzzo concepibile cioè grande rispetto il problema è che essendo Yugi Muto inutile il franchise è sempre stato preda dell'eccessiva influenza di questo personaggio che si era riusciti a cacciarvi alla fine dell'ultima serie e in questo caso si è tentato di tenerlo fuori solo che tenendolo fuori si è dovuto inserire dentro qualcosa che è stato il fangerlaggio più selvaggio esperienza e testimonianza diretta ogni volta che sono andata in Giappone sono andata a un mandarake ovvero questi negozi dedicati agli otaku veri e propri e posso testimoniare che negli angusti corridoi dei sotterranei di Mandarake perché ovviamente vengono sempre tenuti lontani dalla luce nel sole quindi riscendono delle scale per entrare in questi posti oscuri ecco, nelle file e file di Dojinshi che si trovano in questi posti che è solo parlando e mi viene voglia di andarci c'è sempre una sezione di Yu-Gi-Oh! per questo vorrei parlarvi della lancinante scena finale ovviamente senza spoilerarvela cioè, il punto è che questo film si apre con Seto Kaiba che, sentite la sparata atomica ha tipo una stazione spaziale collegata a terra da un ascensore che esce dalla stratosfera c'è una minchietta enorme ma che all'interno del mondo di Yu-Gi-Oh! è fantasmagorica che lui ha costruito perché è padrone di una corporazione e sta tentando di invadere i mercati con nuovi prodotti in modello no, ma perché ha creato un nuovo come si chiama? quello su cui caricano le carte super figo atomico solo per tentare di sfidare il faraone Atem solo che lui non sa che il faraone Atem se n'è andato per colpa di quelli di Dota di Yu-Gi-Muto di fondo lui fa tutto il film a rincorrere il faraone che non c'è più e a un certo punto c'è questo momento che, ve lo dico senza non c'è di vergogna sul mio blog c'è una tag che si chiama il disperato urlo della fangirling incognito nato per quei momenti in cui sei in pubblico magari pure una proiezione stampa circondata da giornalisti e seri e ti viene quel momento fangirlistico in cui vorresti urlare di mettere urlo a un tasolico invece di stare seria ecco, c'è stato uno di quei momenti quando a un certo punto Seto Kaiba si gira verso Yu-Gi e gli dice io e te siamo uniti da un rapporto speciale seppur di natura diversa con il faraone Atem alla luce della scena finale che è oggettivamente incredibile Tango rilege come tutta la storia come portata avanti a suoni puttanate da Seto Kaiba nella speranza di incontrare di persona il faraone senza l'inutile ingobratto arpello di quell'idiota di Yu-Gi-Muto e quindi il punto è tu fai tutto questo solo per una sfida a due monster sì ma è chiaro evidente dall'ultima scena fantasmagorica che in realtà è tutta una regoria e mancherebbe un'ulteriore scena dopo i titoli di Coda purtroppo sono dei monster lì ma non c'era in cui Seto Kaiba avrà finalmente soddisfazione di quello che cerca del faraone Atem e non è un duello a due monster ma chi non si curerà di andare al cima ma è fan delle sparate gotiche di Seto Kaiba i momenti migliori di Seto Kaiba in questo film che tra l'altro non avendo il trattamento di canassi è pure adattato abbastanza bene il problema è che proprio Seto Kaiba parla al tisonante cioè uno che quando ti insulta ti dice cose tipo fiscido psicofante ai tempi non capivo la sua genialità adesso lo apprezzo altro momento stracalt Seto Kaiba che parla con un'intelligenza artificiale che ha programmato lui stesso per assolvere un particolare compito e quindi questa voce del computer gli dice sono riuscita a farlo in tot tempo come l'hai programmato e lui dice lo so ovviamente ti ho programmato io e l'intelligenza artificiale che è veramente intelligente gli dà una risposta top e gli dice ma la mia intelligenza artificiale ha riconosciuto la necessità di ricordarle il suo genio oppure questo suo commento che diventerà il mio mantra professionale per il 2017 ovvero non ho mai considerato la mediocrità uno standard possibile preparatevi perché soprattutto nei duelli della seconda parte del film Yugi evoca di quelle carte mostro imbarazzanti non vi dico niente ma guardate una roba che veramente io mi vergognerei di evocarla in pubblico veramente Yugi lo fa apposta in realtà lui è un suo di dogenio del male che vuole solo infastidire i suoi avversari prima di imbattere che roba stracalte Yugi that's your name play the game it's your move e qui è un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte Grazie.